Musica e cinema in Calabria per tutta la settimana, con ospiti come Il Volo, Malika Yan, Manuel Agnelli e tanto cinema, con un'attenzione speciale alla guerra in Ucraina, con due proiezioni Divided Ukraine, What Language Do You Express In Love In? di Federico Schiavi e Christine Reynolds e Bad Roads, Le Strade del Donbass, quattro storie toccanti ambientate nel Donbass ferito dal conflitto In arrivo alla diciannovesima edizione del Magna Grecia Film Festival e star internazionali come Richard Gere e poi John Landis, regista del memorabile Blues Brothers Michael Redford che ha diretto Massimo Troisi per l'ultima volta nel film Il Postino e poi gli artisti italiani come Stefania Sandrelli, Marco Tullio Giordana e Enrici Tognazzi No però, però, questa ve la devo raccontare perché veramente...